Nonostante un tasso di crescita dell'economia ben superiore alla media europea e il fatto di aver restituito il debito contratto col Fondo Monetario Internazionale in anticipo rispetto alla scadenza, il governo ungherese è al centro di forti critiche da parte dell'Unione Europea per le sue politiche economiche non ortodosse. Di tutta risposta il governo ungherese ha minacciato di uscire dall'Unione Europea. Vediamo nel dettaglio la questione. L'Ungheria ha avvertito chiaramente Bruxelles. Il paese è pronto ad uscire dall'Unione Europea se quest'ultima insisterà nel voler determinare la politica ungherese. Ma non è solo la pretesa dell'Europa di imporre a Butapest una serie di misure economiche che peraltro non hanno funzionato negli altri paesi periferici dell'Unione che hanno visto un sensibile peggioramento delle loro condizioni, la questione del contendere. In seguito alle elezioni del governo conservatore di Orban, le tensioni tra Bruxelles e Butapest sono cresciute sensibilmente su ogni tema, dalla politica economica alla politica interna, fino alla politica estera. Per non parlare della malcelata in sofferenza, con cui gli USA guardano il nuovo corso politico del paese Maggiaro, culminato in un documento col quale Washington ha tolto il visto da alcuni funzionari ungheresi, tra i quali il capo dell'ufficio tasse e dogane, nell'ambito di un'inchiesta per corruzione. Carta straccia. Così il presidente Orban ha liquidato il provvedimento. Dopo una prima esperienza di governo, dal 1998 al 2002, in cui ha portato avanti politiche libero-scambiste, corpose liberalizzazione ed è avvenuto l'ingresso del paese nella Nato, Orban è tornata al potere nel 2010, ottenendo la maggioranza più solida dalla fine del regime comunista. 263 seggi su 386. Il secondo governo Orban si è caratterizzato per l'abbandono delle politiche liberiste, con un rafforzamento del settore pubblico e l'imposizione di una tassa sui profitti del settore bancario e delle telecomunicazioni. Nel 2011 avviene la rinazionalizzazione dei fondi pensione privati per un valore di 10 miliardi di euro. Ma la vera eresia del nuovo governo ungherese, che ha posto Bucarest in netta contrapposizione con Bruxelles, avviene in campo monetario, quando il governo Orban ha tentato di riportare la banca centrale ungherese sotto il controllo dell'esecutivo, sostituendone il direttore con uno nominato dal governo, ribadendo la volontà di riprendere la piena sovranità monetaria e riaffermando l'intenzione di non entrare a far parte dell'eurozona. Il terzo governo Orban, entrato in carica nel 2014, ha rafforzato ulteriormente queste posizioni economiche antiliberiste ed ha stretto i legami diplomatici con la Russia di Vladimir Putin. Contrariamente alle previsioni degli analisti europei e delle varie istituzioni finanziarie, l'Ungheria non è sprofondata nel baratro economico, che gli si prospettava da più parti, ma al contrario ha ottenuto una serie di innegabili successi. Ha ripagato in anticipo il prestito che il Fondo Monetario Internazionale gli aveva concesso nel 2008, quando al governo c'era il Partito Socialista, successo ottenuto nonostante la crisi economica e l'inasprimento delle relazioni con l'Unione Europea, l'avvio di procedure di infrazione contro il Paese e il taglio dei fondi strutturali europei, misure applicate come punizione per la politica marcatamente nazionale e per il rifiuto delle politiche atlantistiche da parte del governo ungherese. Il PIL ungherese è cresciuto in maniera sostenuta, arrivando nel 2014 ad un aumento del 3,9% su base annua. La produzione industriale è cresciuta dell'11,3% e la disoccupazione è scesa all'8%, dati che nel generale contesto di stagnazione e crisi occupazionale europea appaiono quasi miracolosi. I successi economici ottenuti con politiche opposte a quelle raccomandate dal Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea e dalla Commissione Europea, l'orgogliosa rivendicazione della sovranità nazionale e dell'indipendenza del Paese. La tutela dell'identità culturale, religiosa ed etnica del Paese hanno garantito al governo Orban un consenso fortissimo, in un periodo in cui i governi della maggior parte dei Paesi europei soffrono di una crisi di fiducia senza precedenti. Basti pensare al governo Hollande in Francia, che ha toccato il livello più basso di popolarità della storia della Repubblica Francese. La politica dovrebbe interrogarsi attentamente sul vasto consenso ottenuto da Orban e sulla sfiducia e sulla lontananza dei cittadini europei dai propri governi e dall'idea stessa di Europa Unita, così come una seria riflessione meriterebbe anche il successo delle politiche economiche non ortodosse messe in campo in Ungheria, a fronte del fallimento di politiche economiche ortodosse messe in campo in altri Paesi.